Ciao ragazzi e bentornati, io sono Antonio e oggi finalmente riparte la programmazione del mio canale, lo so, mi sono fatto attendere parecchio, sono mancato per tipo due mesi, ma ragazzi sono successe mille cose oltre alla stanchezza, ho anche avuto il covid, ho avuto diversi problemi, ma finalmente siamo di nuovo qui e ricominciamo con questa nuova stagione. Devo fare mille ringraziamenti ma li farò alla fine del video e ragazzi prima di cominciare vi ricordo che come al solito per sostenere il canale avete poche cose da fare ma che per me fanno la differenza come iscrivervi al canale, di questo vi sono sempre grato, cliccare sui miei link Amazon per acquistare qualsiasi cosa voi vogliate perché Amazon mi riconosce a prescindere una piccolissima percentuale che aiuta il canale a sostenersi e poi come al solito abbiamo il nostro sponsor principale ormai da diversi anni che è Pampling, dove col mio codice 7Potter avrete sempre un paio di calzini in omaggio e il codice è sempre cumulabile con tutte le iniziative in corso. Questa maglietta che vedete da me indossata è naturalmente di Pampling. Detto questo ragazzi cominciamo e cominciamo con la mia collezione aggiornata perché ci sono davvero tante tante cose nuove, grazie a Vinted l'anno scorso ho rimpinguato la collezione in maniera inverosimile, infatti l'ho tutta riordinata, predisposta in modo diverso e naturalmente ci sono state anche diverse collaborazioni, una su tutte, quella col Marchingegno o ad esempio con Always Wand, con Francesco che anche lui mi ha aiutato a inserire nuovi pezzi ma i ringraziamenti come vi dicevo li farò alla fine di questo video e ragazzi adesso cominciamo e ho davvero un bel po' di cose da farvi vedere. Come di consueto ragazzi bacchetta alla mano per puntare quello che man mano vi andrò ad illustrare e cominciamo dalla sezione libri che è sempre più grande grazie anche a Panini e a Salani che mi mandano davvero tantissime cose e che non finirò mai di ringraziare come ad esempio questo qui che è un libro pop up che vi ho mostrato in uno degli ultimi video ma abbiamo questa che è la mia collezione principale dove abbiamo i sette libri della saga quelli là che ho comprato man mano che venivano pubblicati e poi abbiamo anche la prima edizione delle fiabe di Bedelbardo e di Animali Fantastici e del Quidditch attraverso i secoli e poi abbiamo anche questo che invece è il catalogo dell'asta di Sotheby's della vendita del manoscritto delle fiabe di Bedelbardo questo va in coppia con la Collector Edition quindi questo l'ho recuperato su Ebay ne vado molto molto fiero perché non ce ne sono tantissimi in giro poi abbiamo anche Harry Potter e la maledizione delle rede e poi abbiamo le sceneggiature dei primi due film di Animali Fantastici questa qui l'ho presa a Londra nel negozio di Mina Lima e all'interno è autografata ho anche la nuova del terzo film che mi ha inviato gentilmente Salani ma la devo ancora unboxare lo farò in uno dei prossimi video e poi abbiamo anche lo scrigno del mago che vi ho mostrato già in un video per intero e poi questo che invece è il passaporto che viene dato al Warner Bros Studio Tour questo qui che va timbrato all'interno man mano che si procede nel tour e vi ho mostrato anche questo in un video poi i mini libri di Insight Edition, questi tre e poi il box del Quidditch passiamo al reparto più in basso dove abbiamo le edizioni illustrate di Jim Kay dei primi quattro libri tra poco finalmente uscirà anche il quinto dovrebbe uscire verso Natale speriamo arrivi anche in italiano presto e poi abbiamo le versioni illustrate di Gli Animali Fantastici le fiabbe di Bedelbardo e il Quidditch attraverso i secoli poi abbiamo Gli Schermi Incantati i primi tre volumi è quello dedicato ai crimini di Grindelwald e poi il libro pop-up del Castello di Hogwarts quest'altro libro pop-up Il Magico Mondo di J.K. Rowling di Panini Comics poi abbiamo tutti i tacquini di Panini Comics quello là di Newt Scamander, Le Arti Oscure, Hogwarts, Diagon Alley, Formula Incantesimi e Natale a Hogwarts l'ultimo uscito poi abbiamo il libro dedicato a Mielandia quello profumato che si gratta e odora poi abbiamo i libri dedicati alla mostra del British Museum abbiamo A History of Magic questo non è mai arrivato in italiano mentre questo qui Salani l'ha tradotto in italiano che è Harry Potter, un viaggio nella storia della magia e poi ancora abbiamo Harry Potter, la magia del knitting vi ricorderete la civetta che mi è stata fatta grazie a questo libro e che in questo momento è messa da parte insieme a tante altre cose poi abbiamo qui un'altra mensola con le monografie di Panini Comics qui abbiamo le due guide che ho acquistato al Warner Bros Studio Tour poi abbiamo Dalla Pagina Allo Schermo, classico, immancabile la magia del film, i luoghi magici, creature magiche, libro dei personaggi, degli oggetti magici la magia del film di Animali Fantastici e dei Crimini di Grindelwald non hanno realizzato nessun libro relativo al terzo film perché praticamente non ci credevano neanche loro alla riuscita di questo film e infatti non sappiamo neanche se ci sarà un quarto ancora e poi abbiamo la valigia di Newt Scamander gli archivi della magia i libri pop-up dedicati a Hogwarts e i dintorni e i diagonali di Reinhardt questi sono davvero fighissimi e ve li ho mostrati entrambi in due video separati trovate tutti i video nella cartella Harry Potter del canale e poi abbiamo questo che è l'arte di Harry Potter volume che mi sono fatto autografare anche al suo interno vi ricorderete sicuramente ve l'ho fatto vedere tantissime volte e poi abbiamo anche la scuola di Hogwarts questo l'ho recuperato su Vinted è un libro pop-up ed è un libro che fa parte delle primissime cose pubblicate dopo l'uscita della pietra filosofale questo è dei fine anni 90, primi anni 2000 e poi abbiamo questi due volumoni che sono i libri dedicati sempre a animali fantastici vediamo se riesco a farvi rivedere abbiamo questo qui dedicato al primo film e questo qui dedicato al secondo film i crimini di Grindelwald con questo formato orrendo che non sta in libreria lo stesso vale per questi due di Panini Comics che sono il manuale delle scope e il manuale delle bacchette e poi abbiamo qui in alto invece un'altra piccola sezione che ora vi mostrerò dove ho questa che è la collezione di carte di Panini dedicata al primo film che mi era piaciuta tantissimo poi ho questo volume di Lego Harry Potter dedicato al Natale e abbiamo ancora questo che era molto molto bello Un anno magico con Harry Potter di Jim Kay che vi straconsiglio e poi il libro dei dolci e il libro di cucina ufficiale di Harry Potter di Salani di magazzini Salani e poi abbiamo anche questi che invece non vi ho ancora mostrato e dovrò farlo in dei video appositi abbiamo i segreti di Silente Schermi Incantati che è praticamente l'unica cosa uscita dedicata a questo film e poi abbiamo anche il volume dedicato a The Cursed Child che non vi ho mai fatto vedere ma è molto molto bello un libro fotografico con tutte le scene tratte dall'opera teatrale che prima o poi dovrò vedere e poi ho questi che sono i primi due volumi di MinaLima in italiano e i primi due in inglese sono tutti prima edizione e naturalmente questa qui la prima edizione del primo volume è anche autografata da MinaLima e poi abbiamo questi box che sono la valigia di Newt Scamander e questo qui che è il pensatoio di Silente ma credo che ormai li conoscete davvero benissimo perché ve li ho mostrati tante volte e poi qui accanto alle librerie ecco che abbiamo la mia ultima acquisizione lo specchio che mi ha realizzato il marchigegno e ragazzi io ne sono ancora innamorato è davvero bellissimo più lo guardo e più mi piace è realizzato in modo davvero perfetto spettacolare tutto il legno realizzato a mano e ragazzi qui nello specchio riflesso potete anche vedere l'edizione dei lucchi di Harry Potter che ogni tanto la notte vado a rileggere e poi ecco qui ancora sempre il nostro specchio in tutto il suo splendore è davvero bellissimo e mi piace un sacco così come è sistemato accanto a tutta la mia collezione di volumi di Harry Potter adesso passiamo alla scrivania dove ho tirato fuori un po' di roba per farvela vedere ed ho gli scacchi magici di Harry Potter questi li ho presi su EMP tanto tempo fa poi abbiamo anche il nostro mantello dell'invisibilità il mantello col green screen quindi per fare gli effetti col telefono poi abbiamo un po' di bacchette magiche non ufficiali queste sono quelle recuperate su Aliexpress o in alcune box e poi abbiamo la bellissima mano di Mina Lima realizzata dal Marchingegno tutta in legno ragazzi questa è bellissima le cose del Marchingegno che ve lo dico a fare sono meravigliose poi abbiamo l'edizione speciale collector edition delle fiabe di Bedelbardo su questo volume ho realizzato un video dedicato che trovate sempre nel mio canale e poi abbiamo questo tacquino qui di Newt Scamander che riproduce la copertina del libro di animali fantastici che abbiamo visto nel film anche questa mi è stata regalata e ringrazio tantissimo chi me l'ha regalata e poi abbiamo qui sempre dal Marchingegno l'insegna di Not to Nally realizzata in legno da appendere anche questa bellissima e poi abbiamo un po' di bacchette qui abbiamo la scatola della bacchetta di Sambuco ma è vuota perché è esposta in collezione ve la mostro dopo e poi abbiamo sempre come bacchette originali Noble Collection quella di Hermione che ho recuperato su Vinted per 7 euro pochissimo poi abbiamo quella di Harry abbiamo questa che è quella lì di Nicolas Flamel e poi qui ancora abbiamo quella di Voldemort sempre regalata da uno di voi e poi abbiamo quella di Tina molto molto semplice e ancora abbiamo questa che è quella di Newt Scamander questa l'ho presa da GameStop in promozione e poi abbiamo questa che è quella del Giovane Silente e poi qui abbiamo ancora Fanny la nostra fenice di Noble Collection e poi abbiamo l'immancabile castello di Lego che è sempre alle mie spalle in tutti i video ma adesso dobbiamo passare alle mensole ve le faccio vedere così facciamo prima una veduta di insieme ho queste due mensole tutte dedicate alla mia collezione e c'è davvero tantissima roba ho cercato di dividerla dando un senso abbiamo qui la zona arti oscure la zona Horcrux qui abbiamo la zona invece del primo film di Nielandia qui abbiamo la zona Weasley e poi in alto abbiamo la zona delle cose un pochino più ingombranti ma adesso lo andremo a vedere tutto nel dettaglio passo dopo passo cominciamo qui abbiamo la sezione dedicata ai dolci e al primo film in generale o comunque i primi film della saga qui troviamo i due fermalibri questi qui di Mina Lima e di Noble Collection che ragazzi io ho pagato circa 60 euro l'uno un paio di anni fa e adesso sono tornati di nuovo sul mercato ma costano 160 euro l'uno e sono anche abbastanza difficili da reperire quindi auguri per recuperarli poi ho anche un po' di dolcetti che ho recuperato questi sono tutti i dolci venduti al Warner Bros Studio Tour che ho recuperato su Facebook da una ragazza abbiamo ad esempio le api frizzole abbiamo i bonbon esplosivi qui abbiamo i fudge a forma di mosca abbiamo anche le cioccorane con tutte le figurine all'interno poi ho la scatolina sempre del tour delle gelatine tutti i gusti più uno questo qui è la pozione d'amore questa arriva direttamente da Orlando e poi abbiamo le gomme da cancellare a forma di dolci di Mielandia che ho trovato nella loot crate e poi ancora la torta di Harry la riproduzione e poi qui ancora i rospi di cioccolato alla menta e poi il calice il boccale della burro birra sempre del tour e questo invece è il panino a forma di snaso che ho realizzato io lo scorso inverno con del das e che devo dire non è venuto per niente malvagio e poi abbiamo ancora qui dietro lo skelegrò originale e poi abbiamo anche gli spettrocoli il cavillo che ho trovato nella box di Always Wand e ragazzi piccolo spoiler arriverà una nuova box presto di Always Wand che vi straconsiglio mi hanno già fatto qualche spoiler e ragazzi non potete perdervela fidatevi compratela quando sarà disponibile e poi abbiamo anche la lettera di accettazione Hogwarts penna e calamaio di Hogwarts di Noble Collection abbiamo poi i pezzi degli scacchi che ho stampato io l'anno scorso in 3D la pietra filosofale di Noble Collection una piccola versione dello specchio di Primark questa qui la piuma di Rita Skeeter che ho recuperato su Vinted ve l'ho detto diverse volte in diversi video e poi ancora il timbro da realizzare in cera lacca con lo stemma di Hogwarts questo l'ho preso invece su AliExpress non è originale spostandoci un po' più a destra abbiamo Animali Fantastici il taccuino di Mina Lima ma ne abbiamo anche altri abbiamo le fiabbe di Bedelbardo abbiamo Storie della Magia Pozioni avanzate ho recuperato anche un altro dei volumi che vi farò vedere più avanti non l'ho ancora aperto e adesso mi manca solo l'ultimo da recuperare e poi abbiamo la Mela caramellata direttamente dal film di Animali Fantastici dietro qui nascosta abbiamo la Giratempo di Noble Collection è la mini riproduzione tagliacarta della spada di Grifondoro e poi abbiamo ancora questo che è un forletto della Cornovaglia di Noble Collection che io ho tirato fuori dalla sua teca che non mi faceva impazzire ed ho acquistato questa da Primark per circa 4 euro questa cupoletta di vetro con la base in legno e ho inserito al suo interno il forletto e il risultato è molto molto più carino questa è la pietra che Hermione lancia nel prigioniero di Azkaban per rompere il barattolo dentro la capanna di Hagrid e questa l'ho realizzata io con del dust semplicemente questa invece è la tazza di divinazione col grammo realizzato dall'artigiana che ragazzi conoscete benissimo ma vi lascerò tutti i vari riferimenti sotto in info box e poi abbiamo anche la mappa del malandrino di Noble Collection abbiamo la borraccia di Malottio Moody sempre di Noble Collection e poi qui la zona Horcrux col diario di Tom Riddle il medaglione la coppa di Tassorosso abbiamo questa che è il diadema di Corvo Nero l'anello abbiamo anche la statuetta di Nagini di Noble Collection e abbiamo anche i doni della morte con la bacchetta di Sambuco e la pietra della resurrezione il mantello ve l'ho già mostrato non sapevo come metterlo qui esposto e poi abbiamo l'orologio cipolla con i doni della morte anche questo ufficiale la bottiglia di burro birra inglese di Mina Lima devo recuperare quella americana a tutti i costi la daga di Bellatrix anche questa una delle mie ultime aggiunte questa qui di Noble Collection e poi qui abbiamo le orecchie oblunghe con questa bellissima scatola di Mina Lima che si trova in vendita al Warner Bros Tour e che io ho recuperato su Vinted e poi abbiamo questi oggetti qui animati che sono molto molto carini questo è lo schizzo di Draco che lancia ad Harry durante la lezione del prigioniero di Azkaban e poi abbiamo anche la foto animata questa qui dell'Ordine della Fenice originale molto molto bella che ho recuperato sempre su Vinted questa qui originale che viene dalla box degli artefatti adesso ci spostiamo al piano superiore e passiamo qui alla zona un po' più oscura diciamo così abbiamo la testa del nottetempo qui abbiamo la scatolina con all'interno il fermacravatte che ho recuperato su Vinted quello della premiere del primo film e poi abbiamo la sfera con i dissenatori di Noble Collection la Felix Felicis che ho realizzato io poi abbiamo questa che è la collana stregata che ho recuperato su Vinted e che molti di voi hanno comprato e mi hanno mandato un sacco di foto e sono molto contento anche perché costa davvero poco e poi abbiamo il calice di Silente di Noble Collection prodotto più truffaldino secondo me della storia di Noble Collection perché è praticamente realizzato in plastica e costa uno sfacelo di soldi e poi abbiamo anche la penna di Dolores Sunbridge dietro i suoi piattini e poi ancora abbiamo il patto di sangue di Grindelwald questo qui di Noble Collection e poi abbiamo la coppa della caverna questa qui di cristallo l'accendino di Silente il deluminatore la sfera della profezia questa qui che è una colonna vertebrale stampata in 3D con in cima una candelina o anche quella realizzata dal Marchingegno quella con una vera colonna vertebrale di cerva e ragazzi ve le straconsiglio sono cruelty free sono da prenotare perché ne ha sempre disponibilità molto limitata ma vi lascio il link sotto in info box e la trovate anche nel video dedicato al Marchingegno dove ho realizzato l'unboxing con tutte le cose bellissime che mi ha mandato poi abbiamo questa box con Ariana sempre originale questa qui di Loot Crate poi abbiamo una piccolissima Puffola Pigmea e poi qui la zona Gringot con la collana dei Doni della Morte abbiamo le fiale con i ricordi di Silente e poi abbiamo le monete qui invece il Lingotto comprato lo studio tour abbiamo gli occhiali di Harry il pacchetto con la pietra filosofale che viene dato da Harry nel primo film il calice della professoressa McGranit quello che viene trasformato in uccello o comunque viceversa l'uccello che viene trasformato in questo calice identico e poi abbiamo anche il sacchetto della Gringot e la chiave della camera blindata la chiave l'ho acquistata sempre a Londra allo studio tour continuiamo verso sinistra e abbiamo la spilla con supporto a Cedric Diggory e gli insulti a Potter abbiamo il calice di fuoco stampato in 3D da me e poi abbiamo ancora l'uovo della prova del drago di Noble Collection la ricordella questa tana stampata da me in 3D questa figura enesco di Harry sulla scopa inseguito dal bolide e poi abbiamo questa qui che è una riproduzione della Ford Anglia anche questa ufficiale mi piace davvero tantissimo e ragazzi vi lascio il link sotto di molte delle cose che vi sto mostrando per prenderle su Amazon e poi abbiamo Noble Collection Picket Noble Collection la clessidra di Lumacorno bellissima e fragilissima e poi abbiamo queste qui dell'artigiana abbiamo la prugna dirigibile abbiamo anche la mandragola bellissima e poi abbiamo invece realizzati da me dietro questa pianta quella di Neville l'ho realizzata io con del polistirolo e poi abbiamo anche i gioielli di luna gli orecchini ravanello e la collana col tappo e poi abbiamo ancora questa piccola mandragola che mi è stata regalata da alcuni amici miei questa qui che è una strillettura realizzata in carta fedele all'originale realizzata da Diana una mia amica che ringrazio ancora tantissimo e poi ci spostiamo un po' più in alto dove abbiamo il baule che ho realizzato io di Harry Potter questo stesso baule uguale identico era in vendita con lo stemma di Hogwarts sopra stampato allo studio tour a me lo hanno regalato per il compleanno l'hanno acquistato da da Conforama e poi ho dipinto io lo stemma sopra trovato anche di questo il video nella collezione precedente nel video collezione precedente e potete vedere anche lo stemma che ho realizzato io con i colori oro e nero uguale a quello originale e all'interno c'è un po' di roba come ad esempio la civetta realizzata con la tecnica del knitting e tante altre cosine che non sapevo dove mettere in collezione sposte nelle mensole e quindi sono infilate lì dentro poi abbiamo la borsa di ermione di noble collection la coppa tre maghi dello studio tour abbiamo questo che è il cappello parlante che ho utilizzato l'anno scorso come puntale dell'albero di natale che farò anche quest'anno e poi qui abbiamo il boccino d'oro di noble collection la statuina noble collection dello snaso dell'edizione speciale blu ray di animali fantastici questo uovo con all'interno un piccolo occami e poi abbiamo il libro mostro dei mostri di noble collection il cappello parlante con le penne delle quattro case e poi abbiamo anche un altro boccino d'oro e ragazzi in linea di massima la mia collezione al momento si ferma qui questa è un'altra veduta d'insieme di tutte le cose che ho in collezione e spero vi sia piaciuta eccomi di nuovo qui ragazzi spero di avervi trasmesso almeno una piccolissima parte dell'entusiasmo che io provo nel mostrarvi la mia collezione ci sono davvero tante cose nuove rispetto all'anno scorso e spero che l'anno prossimo ce ne siano altrettante di più io vi ringrazio sempre tantissimo per il supporto che mi date e devo dire che quest'anno quest'estate durante questi mesi ho ricevuto tantissimo supporto dal Pottergram tutto quello che non esiste su YouTube perché i canali dedicati a Harry Potter su YouTube sono pochi ma non è possibile collaborare tra noi canali perché per qualche assurdo motivo ogni canale è chiuso in se stesso e non si riesce a poter collaborare o creare delle amicizie da questo punto di vista mentre invece sono riuscito a farlo su Pottergram e ringrazio tantissimo Eli ad esempio di Eli Magical Corner con la quale mi sento spesso e volentieri ma ringrazio anche Gennaro di Accio Nimbus Pasquale di Pasquale Potter Collector o ancora Ufficio Magico ad esempio Hollowest Wand Francesco lo ringrazio tantissimo ma anche il Marchingegno che ormai è lanciatissimo nel mondo di Instagram e che presto probabilmente avrò la fortuna di incontrare di presenza proprio qui a Catania e naturalmente documenteremo la cosa e poi ragazzi sicuramente dimentico qualcuno c'è Alice ci sono davvero tantissime persone sul Pottergram tutte una più bella dell'altra e tutte disposte a collaborare a condividere informazioni curiosità anche a condividere piccoli trucchi del mestiere cosa che invece nessuno è disposto a fare su YouTube o perlomeno io non sono riuscito a trovare nessuno disposto a collaborare o a fare qualcosa comunque insieme a condividere qualcosa insieme poco male nonostante non sia molto attivo su Instagram ma mi trovate come Antonio.seria sono davvero felice di aver conosciuto tutte queste persone che mi seguono con affetto e che anch'io seguo con tantissimo affetto e interesse quindi ragazzi vi lascio tutti i loro account sotto in infobox così come vi lascio tutti i vari link ad Amazon e agli altri siti per acquistare i prodotti che vi ho mostrato quelli che è possibile ancora acquistare e ragazzi che dire ancora grazie per aver visto il video fatemi sapere quali video vorreste vedere sul canale in questa stagione quindi dateci dentro con i commenti fatemi sapere seguitemi anche su Instagram se vi va iscrivetevi al canale e a questo punto credo di aver detto tutto mi manca anche la voce perché ho parlato uninterrottamente per mezz'ora vado a bere un bicchiere d'acqua e ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao